Sono molte le scuole dell'agro che hanno sospeso l'attività didattica per consentire l'allestimento dei seggi elettorali per la domenica di voto del 25 settembre. Si voterà in un'unica giornata dalle 7 alle 23 a seguire immediatamente lo scrutinio delle schede per eleggere il nuovo Parlamento della Repubblica Italiana. Accorbarà nessuna interruzione invece per le scuole che resteranno regolarmente aperte. I seggi elettorali verranno infatti allestiti all'interno del Palazzo di Vetro che peraltro riprenderà invece martedì la sua attività di centro vaccinale dell'ASL che è ospitato al piano inferiore del palazzo stesso. Un atto di precauzione e sicurezza che non interrompe le attività del centro che ha riorganizzato le prenotazioni dei cittadini chiamati ad effettuare la quarta dose. Nelle altre città scuole elementari, medie e superiori presteranno come di consueto i loro plessi per poter consentire agli elettori di esprimere il loro voto. Non tutte le scuole saranno ovviamente coinvolte dalla tornata elettorale anche se da circolare ministeriale è prevista la sospensione delle attività didattiche nei soli giorni di sabato e lunedì alcune scuole in autonomia già oggi hanno lasciato a casa gli studenti per riaprire in alcuni casi martedì o in altri mercoledì. È il caso di Nociaro Inferiore e Pagani cui sindaci hanno emesso apposita ordinanza di sospensione delle attività didattiche fino a martedì 27 settembre le scuole utilizzate come sedi di seggio elettorale riprenderanno l'attività mercoledì 28 settembre. Dopo l'utilizzo delle aule per i seggi elettorali dovrà necessariamente essere consentita nella giornata di lunedì la disinfezione e la sanificazione dei locali oltre che lo smontaggio dei seggi stessi e le aule potranno poi essere restituite agli alunni una volta reate. A Nociaro Superiore la scuola Fresa Pascoli resterà chiusa anche martedì per disposizione del dirigente che ha previsto ulteriori pulizie. Da oggi a mercoledì resterà chiuso il terzo circolo didattico plesso con l'Odi di Pagani che quest'anno è alle prese con la nuova programmazione. Tra questo l'aumento del monte ore dell'educazione motoria per le quinte elementari e dunque il posticipo per gli alunni dell'orario di uscita dalla scuola. Restano alcuni malumori dell'utenza per le difficoltà dei plessi ubicati in periferia ed in punti disagiati per viabilità e parcheggio. Su una provinciale, con l'Odi su un'altra provinciale, a Sant'Erasmo con i problemi di viabilità che si conoscono per i lavori, quindi chiaramente ci sono dei malumori da parte dell'utenza rispetto a delle difficoltà, difficoltà che la scuola purtroppo non può far fronte. È comunicata dall'amministrazione di cose che si è resa disponibile a risolvere il problema nell'immediato. Certo. Abbiamo sempre chiesti di problemi fondamentalmente di manutenzione ordinaria. E niente di più? No, nulla di più. Ovviamente ho un grosso problema di... I trasporti? I trasporti sicuramente perché dove insistono le mie storie e i miei plessi sono dislocati periferici, quindi i genitori non hanno possibilità di affidare ai trasporti pubblici perché non esistono. Allora sicuramente abbiamo un problema di... strutturale, cioè una scuola che insiste su cinque plessi ha una gestione difficilissima, non farebbe male. Io le faccio i migliori auguri. Grazie mille. Buon anno scolastico è ad Maiora. Grazie mille. Arrivederci a tutti e alla prossima volta. Sicuramente.